sì allora la strategia odierna è su un asset che comunque è riuscito a ben performare nel corso dell'ultimo periodo è il ti quindi andiamo sul petrolio è un'operazione intraday e è un'operazione figlia chiaramente della della forza mostrata appunto da questo mercato e non ultimo nella giornata di ieri dove comunque io mi aspettavo un test degli 85 dollari però ecco come poi tra l'altro avevo scritto anche sul mio blog mi aspettavo che su questi livelli diciamo ecco sarebbero tornati in campo i compratori perché comunque sappiamo che in uno scenario di tassi in uno scenario di riflazione quindi di inflazione che torna diciamo ecco a a farsi vive a maniera pesante sappiamo che il comparto energetico tipicamente in una prima fase è quello che è uno di quei comparti che va a beneficiare di un di un contesto di questo tipo infatti ieri abbiamo avuto una reazione importante a quota 85 dollari mercato che tra l'altro stava anche disegnando una figura di distribuzione quindi un eventuale breakout avrebbe secondo me portato ulteriori vendite breakout chiaramente della della neckline quindi di questo modello test e spalle viceversa il mercato ha reagito e secondo me c'è spazio ancora per vedere almeno un test degli 87 dollari per questo motivo aspetto aspetterò un pullback a quota 85 80 che è stato il livello recuperato ieri in break di volatilità poco prima della chiusura della sessione quindi oggi mi aspetto che magari ecco in questa prima parte della della sessione il mercato andrà a ritestare questo livello quindi l'operazione è un buy limit a quota 85 e 80 lo stop è vicino ai minimi di ieri livello comunque sensibile che se il mercato appunto dovesse riagganciare chiaramente questo decreterebbe lo stop alla nostra operazione perché a quel punto il mercato potrebbe effettivamente avvitarsi verso il basso quindi lo stop è a 84 e 70 mentre il target è a quota 87 dollari grazie a tutti